Ciao belli di mamma e bentornati Call of Juar e Gaslinger La morte kawaii con un stallone Ok forse il titolo Era un po' troppo lungo ma Vabbè dettagli Siamo ancora su un treno? Wow Gli è venuta proprio la mania di fare Oh che cazzo Di fare roba sui treni C'è livelli sul treno adesso C'è tipo Non so da tre livelli che stiamo facendo solo treni Va bene Sono dettagli Whisky Voglio un po' di whisky Che non si mu- ah ok esploso il whisky Whisky Stiamo calmini Ho sparato solo un po' di whisky Calmini Ok Ah c'è uno dietro che non riuscirò Ah no l'ho preso ok Ah cazzo questo c'ha E' il piccolo juggernaut No Cazzo Ok Che culo Che culo Uh cazzaforte Ah c'è una beata amicchia Ok Vai Eeeh Wow Che nessuno Ah vai E ta 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 Ah Chi cazzo è James, scusa tanto? Allora il boss, quello è là. Ah, ok. Boh, quel cazzo... Ah, ok. Insomma, sì, siamo arrivati alla fine, ma ovviamente ci rifà fare tutto da capo, sto gran figlio di mignotta. La leggenda vuole? Eh? Che bei occhietti. Che riuscissi a fermare un treno? Eh? Con lo sguardo. Grazie al cazzo. Cioè, non vorrei dirti niente, ma il conducente, se è normale, si ferma. Se uno è davanti ai binari, piccolo genio della lampada. E la madonna, tutto rallying viene... Ok. Oh, no, ho sbagliato tantissimo. Oh, e vabbè. Uiii. E tata tata. Oh, dai, 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 che palle. E ce n'è uno dietro, vero? Sì. Che culo, l'ho ucciso. Non era la maniera spettacolare che voleva il gioco, ma dettaglio, l'ho ucciso lo stesso. Catene. Zucchè. Cioè, adesso come... Che ci faccio caso, le zucche c'erano solo nel primo livello o sbaglio? Eh, se... Se vai? Ok, grazie. Grazie, Silas. Ah, aspetta che mi muore un po'. Scusate se sentite i rumori sottofondo. Non sono io che mi muovo, che sposto le cuffie o... Oh, bla, bla, bla. Che cazzo è successo? Una mente così a cazzo, sì. Come piace a noi. Oh. Oh, la madonna, stiamo facendo un devasto adesso. Oh, che cazzo. Ok. Ok. Sta andando tutto bene. Perfetto, perfetto. Adesso morirò tipo mille volte, ma... Sì, dettagli. Eh, guardalo, che figlio di put... Come se la campola! Guardalo! Come... Eh sì, come il fucile a pompa mi vecchia da qua. Stonzo. Ah, ok. Eh, si sta facendo la... La... Gli riposino, insomma, un mattutino. Eh, almeno è mattina. Mezzogiorno. Tanti corvi. Perfetto. Ok. Bella roba. Ah, ma c'è gente qua. Eh... Ok. Vaffanculo, ok? Non so nemmeno un liga. Eh... Da un giorno ormai. Mi sento mai escluso di così malarca in mia vita. Eh, pensi che è un pochino, Maus? Non pensi che è Silas Greaves? Scusate se sto zitto ma è già finito il discorso. Aspetta. Jack è chi era? Era uno che stava seduto o era il barista? No ben era il barista. Che cosa è successo? Mi è andata a puttana il gioco? Che cazzo? Ah no siamo entrati da qualche parte o mi è andata a puttana il gioco? Va bene. Cazzo per le risposte gioco. Che cazzo mi prendono anche per i culo sti stonzi perché mi hanno fatto la gallina? Oh! Porca puttana! Anna! È morto? Si è morto. Vorrei vedere cazzo gli sparati tipo mille e mille caricatori. Guardalo dov'è? Ok. Ok. Preso questo. Perfetto. E la madonna. Da quando ci sono le pedane qua sui treni? Non so nel far west però nel mondo moderno non ci sono. E non credo neanche nel far west ma vabbè dettaglio. Oh che cazzo! Ah! Ah! Aspetta. No! Stavo puoi cadere giù. Eh vaffanco di uno scorso. Ok. 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 E qua come faccio a passare? Ah ok c'è il coso. Eh. Se muori. Funtana. La sbarco. Ok. 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 Cucu. Ah c'è c'è il coso. Aspetta. Aspetta. Non l'ho neanche visto. Toh. Non so cosa potenziare ma si potenziamo. Sempre bello potenziare così a random. Oh boh. Sto tizzi con la Gatlin però. E da. Aia. E la ventola va. Ah. 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 Ah dio santissimo. Inutile. Un respiratore d'aria. Oh alleluia. Figlio di. Un figlio di puttana in meno. E tante di non minti a me. Ok. Adesso posso usarla io? ovvio. Muori. Ah me la macello tra me tra me. Oh mio dio come esplod 누가 left off. Vabbè ma questo è stupido che si rimetterà. Anzi in soffra per il gi我跟你講. Ok. È una bella. È una bella peppa. Siete dei piccoli genius oh yeah. Io qua stiamo andando gli un precipizio. Ok. Fa una certa cena. Quanti cazzo di esplositi ci sono in questa treno. Anche senza bombita ero poco sicuro comunque in questo treno. È finita? Ah, non c'è niente, mi avevo liberato. Ok, è finita. Aspetta che prendo il punto abilità. Eh, no. Troppo potenziato con il fucile assalto, spero. Le munizioni che non ho preso in questo momento. C'è nessuno. Che cazzo stai facendo, Sidas? Non c'è nessuno, la poteva, stai su fondo questa. Ecco, qua c'è qualcuno. Bravo, Sidas. Che cazzo è posto? Qua si legge uno le lettere di... di altre persone che esseri malvati. Eh, vabbè, questo è uscito dal culo. Ma qua non è quello di prima. Aspetta. Ok, ok. Ah, sì, sì, è quello di prima. Non c'è un cazzo ancora. Ok. Vabbè, sì, dai, sì, non c'è niente. Eh, apri. E qua c'è il bosso. Si è riesco a ucciderlo. Eh, si è scappato tantissimo. Un pozzo di merda. Ma come ha fatto a non morire? Oh, ok, adesso è morto. Apri. Ricarica tutto. Siamo pronti? Siamo pronti. Una vendetta. E stavolta mi sei messo davanti. Perfetto. E quell'altro sta scappando. Ah, 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 ah. C'è qualcuno lì, nell'angolino, che prima non c'era. Oh. Ok. E James lì, come cazzo si chiama, è scappato però. Com'è sta roba? Fonda. Oh, mio Dio. Oh, attento. Sì. Eh, la madonna. I tocchi che vuol... Oh. Ma cos'è, Mattress? Ma qua è tutto in fiamma. Ma cazzo faccio? Eh, sì, ma qua c'è il fuoco. Cazzo? Cos'è, Satana? Ah, ma un duello da qua? Come cazzo facciamo un duello da qua? Ah, no. Eh. Senti già che vaffanculo. Ah, ma insomma c'è scappato. Possiamo spararli? Eh. Hai il pene. Ok. Hai il fianco. Ok, insomma, noi abbiamo ucciso tipo neanche la metà delle persone che abbiamo sparato, ma dettagli. Di quelle importanti, invece i suoi, tipo, i suoi... Tipo, uccidiamo tutti, tutta la banda di cattiveria, ma il coso, quello più importante, ovviamente, lo lasciamo sempre vivere. Cioè, ne avremo uccisi due, o tre, o... Anzi, io li conto. Ok, nel super dono, allora. Assassinato? Vabbè, James è stato assassinato comunque. E adesso c'è Bob, allora? Nel super dono. Vabbè, comunque. Questo video, ragazzi, questa missione la vedremo nel prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Oh mio Dio, ci sono le gotte, che palle. Spero che il video vi sia piaciuto. Manca veramente pochissimo. Mancheranno due video. Sì, circa due video. Beh, alla prossima. Ciao!